Il canale di San Ten Chan, solo gioie, allora dice The Wolfleon addirittura ti blocca il caricamento con il copyright, io ho un paio di cover che mi dice che non sono monetizzabili ma non le ha bloccate. Beh dipende da cosa viene suonato, perché se tu ci sono alcuni, ad esempio penso che se metti gli ICDC penso che ti blocchi proprio, però non voglio farvi fare questi esperimenti che magari vi trovate in difficoltà per colpa mia. Allora ecco qua il canale di San Ten Chan, innanzitutto è molto significativo questa immagine che c'è di San Ten Chan, i mille volti di San Ten Chan, perché secondo me San Ten Chan non so se è veramente una persona fisica o se è un'entità, perché ha talmente tanti personaggi, ha talmente tanti diciamo modi di essere che non si riesce a capire veramente chi sia, cioè oggi è vestito da prete, domani vestito da marinaio, dopodomani vestito da santone, da grande economista, è un po' un po' tutto. Quindi è un canale molto variegato, interessante, tutto da scoprire e tematiche che veramente vanno in tutte le direzioni. Quindi andate a vederlo, iscrivetevi e selezionate le campanelline per lui e tra l'altro ho anche aperto l'attività abbonamenti, che adesso vi lascio a voi andare a scoprire di cosa si tratta, cosa offre di abbonamento e questo perché sicuramente è un numero di iscritti elevato di 2260 e quindi già monetizza al suo corso. Dice lui si definisce che è sui generis. No, io più che sui generis direi che è sui particolaris, perché è molto particolaris, molto particolare. Comunque è estremamente divertente e vi ripeto, tutto da scoprire. Ecco, questa è l'immagine di un video, la miniatura del video che era interessante perché c'è lui in una miriade di volti. Anche io qua ogni volta devo far passare tutte le pubblicità per passare ai video. Ecco, gli mettiamo anche il like. Eccolo qua, ecco, quando si guida non si dovrebbe, quindi gli mettiamo una censura. Cartellino giallo. Non si fanno video quando si ha la guida. E lo stoppiamo. Stop! Bene, andiamo a vedere qualche altro canale.